Benvenuti in questo nuovo episodio del Pitulo Crime. Io sono il Pitulo e in questa puntata esploreremo i misteri più oscuri e risolti del mondo dello sport. Oggi vi racconterò una vicenda che ha lasciato un segno indelebile e profondo nel calcio italiano e calabrese. Un caso che ancora oggi fa discutere su cui pesano troppe ombre. Stiamo parlando della tragica morte di Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza scomparso nel 1989. Una vicenda questa intrisa di dubbi, sospetti, complici in un primo momento ignoti, false testimonianze e dolorosi interrogativi rimasti senza risposta per 35 lunghissimi anni. Ma chi era Denis Bergamini? Era la notte del 18 novembre del 1989 e ci troviamo in Calabria nella provincia di Cosenza dove l'estate era ormai un ricordo lontano e i primi freddi del periodo autunnale di quel tempo lasciavano presagire un inverno gelido. Sarebbe stato l'ultimo autunno quello per Denis Bergamini. Denis era un giovane promettente calciatore del Cosenza calcio, un ragazzo con il futuro davanti a sé. Amato dei tifosi e rispettato dei suoi compagni ma il 18 novembre del 1989 la sua vita si spezza improvvisamente in circostanze che sono rimaste a volte nel mistero e nella incertezza per 35 anni. La sua vita infatti termina a lungo una strada provinciale nei pressi di Roseto Capospulico. Le prime notizie della sua morte danno in pasto all'opinione pubblica l'ipotesi di un tragico suicidio. Infatti, secondo la versione ufficiale dell'epoca, Denis si sarebbe gettato volontariamente sotto un camion in corsa, apparentemente senza un perché. Tuttavia, sin dal primo momento i conti non tornano, gli amici, i familiari e tutti coloro i quali conoscevano bene Denis non credevano a queste ipotesi. Denis era sereno e non aveva motivi apparenti per togliersi la vita. Ma allora, cos'era realmente accaduto a Bergamini quel giorno? E perché per oltre trent'anni la sua morte è stata circondata da bugie, ombre e mistero. Quel sabato Denis si trovava in auto con la sua ex fidanzata, Isabella internò. Stavano percorrendo insieme la strada statale 106 Ionica. La donna, fin dal primo momento, dichiarò che Denis, senza un apparente motivo, era uscito dall'auto e si era gettato sotto un camion in arrivo. Fu stesso lei, quella notte, ad avvisare i soccorsi. Questa fu la versione ufficiale accettata dagli inquirenti, che sin da subito, senza avere particolari sospetti, archiviarono il caso come suicidio. Tuttavia molti elementi non tornano, il primo fra tutti l'autopsia, che rilevava particolari inquietanti. Nonostante la dinamica raccontata dai testimoni, il corpo di Denis non presentava segni compatibili con un impatto violento. Nessuna frattura, nessun segno di trascinamento. Anzi, al contrario, il suo corpo era quasi intatto, ma c'era di più. Denis Bergamini non morì per l'impatto con il camion, come si sarebbe potuto supporre. Morì per soffocamento. Questa verità, emersa solo molti anni dopo, cambiò radicalmente le carte in tavola, sollevando nuove domande e aprendo scenari del tutto diversi. Ma quali furono, infatti, i nuovi sviluppi della vicenda che nel 2020 hanno permesso la riapertura del caso? Negli anni successivi, grazie alla determinazione della famiglia Bergamini e all'attenzione mediatica sempre crescente sul caso, si riaprono le indagini. I nuovi esami medico-legali confermano quello che molti già all'epoca sospettavano. Denis non si era suicidato, ma era stato ucciso. La dinamica dell'omicidio tuttavia era avvolta nel mistero. Chi ha voluto la morte di Denis Bergamini? E perché? Sono ipotizzabili scenari legati a questioni personali o c'è dell'altro? Forse un movente legato al mondo del calcio? Agli ambienti oscuri che a volte circondano questo sport? Tutti i dubbi che per tantissimo tempo hanno avvolto la morte di Denis in un alone di mistero e sconforto, ma molte ombre fin da subito alleggiano attorno al nome della ex fidanzata di Denis Bergamini, Isabella Internò. Isabella Internò è stata successivamente indagata per concorso in omicidio e la sua versione dei fatti è stata messa più volte in discussione, ma chi era Isabella Internò? Per comprendere appieno la figura di Isabella Internò, ex fidanzata di Denis all'epoca dei fatti, bisogna fare un salto nel tempo e catapultarsi nella Calabria di 35 anni fa. L'ex fidanzata di Denis Bergamini, all'epoca una ventenne, è sempre stata descritta con tratti di forte possessività e gelosia nel corso del processo relativo alla morte del calciatore. Le indagini hanno evidenziato che la Internò nutriva un attaccamento morboso, asfissiante nella relazione con Bergamini. Sembrerebbe che Isabella, secondo alcune testimonianze del tempo, era arrivata a perseguitarlo anche dopo la fine della loro relazione. Questo comportamento definito quasi ossessivo avrebbe contribuito a portare alla tragedia del novembre del 1989. Secondo i pubblici ministeri, il movente del presunto omicidio di Bergamini sarebbe da ricondurre a una sorta di delitto d'onore. Isabella, rimasta incinta e successivamente sottopostasi ad aborto in una clinica a Londra, disederava un matrimonio riparatore con il calciatore. Tuttavia Bergamini non intendeva sposarla, nonostante volesse comunque prendersi cura del bambino. Questa frustrazione avrebbe spinto la Internò a organizzare l'omicidio con l'aiuto di alcuni complici. Grazie per avermi seguito in questo episodio. Restate sintonizzati sul titolo per la seconda parte del caso Bergamini, le dichiarazioni di Isabella Internò. E se volete lasciate un like alla pagina o al canale YouTube. Grazie.